Questo premio intanto quando lo hai ricevuto? L'ho ricevuto il primo dicembre durante l'evento di premiazione organizzato da PoliHub e niente, è stata una grandissima soddisfazione, abbiamo vinto oltre al programma d'accelerazione anche il grant da 30.000 euro offerto da PoliHub. È un giovane ingegnere aretino ad aver scoperto un dispositivo che difende gli edifici dal terremoto. Si chiama Eleonora Bruschi, originaria di Arezzo, ha appena 29 anni e il suo dispositivo è stato premiato da parte del programma Switch to Product, il programma organizzato da PoliHub Technology Transfer Office del Politecnico di Milano. Io e il mio team abbiamo proposto una nuova idea di business perché PoliHub o comunque tutto lo Switch to Product mira a trovare idee innovative e idee imprenditoriali, tutto finalizzato poi con la creazione di start-up, quindi creare nuove imprese in Italia. Noi siamo partiti da un dispositivo volto alla protezione degli edifici, ma l'obiettivo è di non fermarsi qui, di farne altri volti alla protezione di infrastrutture, sistemi industriali. L'aspetto rivoluzionario sta nel fatto che questo dispositivo è in grado di resistere a molteplici terremoti, è proprio la resilienza, la caratteristica distintiva del dispositivo. Quelli di oggi hanno il problema che sono dei dispositivi molto grandi, molto invasivi e non sono in grado di resistere a scosse ripetute. Quindi nel caso di terremoti con scosse di assestamento, come sono avvenuti per esempio in Emilia o a Rieti, la struttura rimane indifesa e oggigiorno la ricerca, ma proprio la società, ha bisogno invece di soluzioni innovative che possano permettere di mantenere la situazione pre-terremoto. Proprio il fatto che il dispositivo è resiliente non ha costi di manutenzione, perché non ha bisogno di manutenzione, non ha bisogno di essere sostituito, diversamente per esempio dai dispositivi che sono adesso presenti sul mercato. E inoltre ha delle dimensioni nettamente più piccole rispetto agli altri dispositivi, quindi anche i costi per l'installazione del dispositivo sono nettamente più bassi rispetto a quelli attualmente presenti. Adesso abbiamo vinto e quindi abbiamo i soldi, il grant ci servirà per ultimare la fase di prototipazione del dispositivo, perché il dispositivo c'è, è già stato testato, funziona, però è stata testata solo una taglia, quindi vogliamo testare una taglia più grande, una più piccola per vedere che non vi siano effetti dimensionali e via dicendo. Quindi questo serve per il primo prodotto. Dopodiché questi quattro mesi che ci aspettano servono per darci tutte le competenze, diciamo che di cui un po' pecchiamo, perché siamo tutti ingegneri all'interno del team, quindi sicuramente non conosciamo nulla di aspetti economici, figurarsi degli investitori. Quindi questi quattro mesi ci servono come training e poi durante questi quattro mesi si spera di fondare la società e di iniziare concretamente a vendere i prodotti.